Lo scrittore della Chiave Suprema disse Il subconscio non può prendere l'iniziativa. Esegue solo ciò che viene suggerito dalla mente cosciente, ma questi suggerimenti li esegue fedelmente ed è questa stretta relazione tra conscio e subconscio che rende il pensiero cosciente così importante. La mente cosciente diventa il sovrano responsabile e il guardiano della mente subconscia. E' questa alta funzione che può invertire completamente le condizioni della nostra vita. Se tu rileggi questo passaggio, magari un po' di volte, capirai qual è il rapporto tra mente conscia e mente subconscia. Perché ti parlo di questo? Perché arrivano costantemente domande simili a questa. Danì, come faccio ad ingannare il subconscio? Come faccio a prendere in giro il subconscio? E' una domanda stupida. Non c'è questa possibilità. Il conscio genera le idee, il subconscio le trasforma in una realtà pratica e materiale. E' il conscio però che produce le idee. Questo implica che il dominio sulla parte conscia deve essere totale. Per dominio della parte conscia intendo che devi imparare a dominare la tua attenzione, la tua concentrazione e posarla consapevolmente su contenuti da te scelti. La domanda non dovrebbe essere come faccio a ingannare e prendere in giro il subconscio, che non è una cosa possibile. La domanda dovrebbe essere come faccio, Danì, a lavorare sulla parte conscia? Come ci lavoro in maniera corretta? Come alleno la mia attenzione? Come potenzio la mia concentrazione? Queste sono domande intelligenti, non come inganno il subconscio. Perché la base è che il subconscio non produce le idee, non prende iniziative. Il subconscio accetta ciò che il conscio prende per vero. Se il conscio lo prende per vero, il subconscio lo realizza. Non è difficile da capire. Perciò la mia domanda è Tu, a livello pratico, cosa stai facendo per allenarti a dominare la tua attenzione? Durante il giorno fai qualcosa per mantenere la tua attenzione su contenuti da te scelti oppure no? Hai una mente che vaga costantemente oppure ti stai allenando a dominare la tua concentrazione? Perché il lavoro da fare sul subconscio passa anche da questo Ed è una cosa che non puoi saltare Tutti i video, tutti i contenuti dove si va a parlare in genere su internet, sul mindset Ignorano questo rapporto che è la base Il rapporto tra parte conscia e subconscia è questo Il conscio produce le idee Punto Per creare una qualsiasi cosa sul piano fisico devo prima pensarla o immaginarla Tramite la mente conscia Questo, ripeto, implica un dominio totale sulla parte conscia Ma se tu da quando ti svegli, a quando vai a dormire Hai una mente che vaga Hai una mente che pensa al futuro o al passato Hai una mente che non è disciplinata Hai una mente che non si sofferma su contenuti da te scelti Stai sbagliando Punto Questo è il motivo per cui nelle coaching private Una parte importante del lavoro è andare ad allenare la parte conscia delle persone Andare a insegnargli come dominare la parte conscia È un lavoro che va fatto se una persona vuole riprogrammare il subconscio Non si può ingannare il subconscio Ma il subconscio è carta bianca Accetta tutto Cosa devi ingannare? Dipende tu cosa scrivi su quel foglio bianco Qual è una tua scelta conscia? Mi raccomando, prendila con saggezza Quindi il contenuto della parte conscia deve essere scelto Il problema è che le persone si fanno ingannare da questo aspetto E tante volte chiedono Ma se io durante il giorno mi rendo conto che sì La mia mente vaga pensa a quello che vuole Però Dani sono contenuti belli Sono contenuti produttivi Sono contenuti di successo Sono contenuti piacevoli Va bene? No, non va bene per niente Perché la mente non deve vagare Non è difficile da comprendere La mente non deve vagare Punto Se vaga, a prescindere poi dal contenuto, è sbagliato Se vaga in positivo Quindi tu sei tranquillo E la tua mente da sola Inizia a pensare al fatto che avrai successo Che sarai ricco Che avrai il partner che vuoi Che è sbagliato Punto La mente va stoppata dal fare queste cose O vaghi in positivo O vaghi in negativo Il problema sta nel fatto che stai vagando Per vagare intendo che la tua mente Non è sotto il tuo controllo Pensa a quello che vuole È una cosa sbagliata Devi allenarti E magari questo tipo di allenamento Ti richiederà molti mesi oppure anche molti anni Però devi allenarti tutti i santi giorni A dominare la tua attenzione Dove poni la tua attenzione è di vitale importanza Dominare l'attenzione in maniera tale da scegliere un contenuto E pensare a quello per il tempo che vuoi È una qualità da sviluppare Perciò ripeto Quanto tempo passi A lavorare sulla tua mente conscia Se vuoi riprogrammare il tuo subconscio Devi partire da lì Devi lavorare sulla parte conscia È chiaro? Quindi basta domande da idioti Del tipo come inganno il subconscio Lavora sulla parte conscia Dovrebbe ora esserti chiaro Mi auguro che questo video Ti abbia chiarito un po' le idee